Il tavolo tecnico in prefettura, già previsto nei giorni scorsi per discutere del futuro di terremolavoro alla presenza dei vertici della provincia e dei rappresentanti della società e dei sindacati, offre lo spunto ai gruppi provinciali del centro-sinistra che tornano a chiedere certezze e soluzioni per i lavoratori che a fine mese rischiano di rimanere senza occupazione, presentando le proprie proposte che saranno discusse domani pomeriggio all'interno di un consiglio provinciale che si annuncia infuocato. Beh, è gravissimo che a 72 ore dalla scadenza degli affidamenti e dei contratti non ci siano soluzioni definite, non ci sia addirittura nemmeno una proposta chiara, concreta da parte della giunta provinciale. Noi abbiamo voluto con forza che se ne discutesse in consiglio provinciale, abbiamo presentato una nostra proposta che indica, noi riteniamo con chiarezza e con concretezza, la strada da seguire non solo per fronteggiare le emergenze, quindi per dare continuità in questa fase ai servizi e ai contratti di lavoro, ma soprattutto per dare una prospettiva ai servizi e all'occupazione. Sono tre i punti indicati dal centro-sinistra per poter salvare questa situazione e per poter tutelare i posti di lavoro? Sì, intanto noi riteniamo che nell'ambito dei tetti di spesa, cioè di quello che è consentito dalle norme nazionali, vadano internalizzate, cioè riportate all'interno dell'ente quelle che sono funzioni essenziali, penso alle concessioni, al genio civile, che nulla c'entrano con servizi di natura strumentale, per procedere in quei casi a selezioni pubbliche per contratti a tempo indeterminato, quindi con la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Riteniamo che sulla base di un piano industriale dei servizi, gli altri lavoratori possano essere stabilizzati sempre attraverso selezioni pubbliche, naturalmente, da parte della società Teramo Lavoro. Infine, per quanto riguarda il settore lavoro, è importante che si definisca un'intesa con la Regione Abruzzo che garantisca la certezza delle risorse e degli affidamenti fino al 2014, di modo che si possa procedere a selezioni pubbliche per contratti a tempo determinato, non più da parte della società Teramo Lavoro, ma direttamente da parte della provincia. Sono proposte concrete sulle quali chiederemo il confronto con la maggioranza e con l'Aggiunta. A tal proposito chiedete anche un passo indietro all'amministratore di Teramo Lavoro e l'affidamento della gestione del tutto a un dirigente interno della provincia? Sì, credo che sia assolutamente doveroso. Non c'è dubbio che in una fase così delicata sia importante garantire il controllo più diretto possibile sulle attività della società da parte della provincia. Lo si può fare attraverso un dirigente che amministri la società, peraltro a costo zero per l'ente.